Ciao a tutti amici schiacchisti, sono il maestro Fide Alessandro Santagati e vi do benvenuti in questo nuovo video riguardante come giocare la francese da nero, come giocare contro l'arriente di spinta e dopo aver visto i primi due video siamo arrivati al terzo in cui andiamo avanti sull'arriente d'inpution. Nello scorso video mi ero dimenticato di accentuare il nome della variante diciamo che solitamente quando il nero gioca, vi mostro dall'inizio, quando si gioca e4, e6, e5, c5, c3, cavallo c6, cavallo f3, donna b6 di solito questo tipo di mosse donna b6 si chiama attacco polsen della variante di spinta e la variante a3 è la variante a3 di putian dopo a3 erano andati davanti con cavallo h6 che è la mostra che vi suggerivo io dopo cavallo h6, bianco giuro b4, c per d4, alfiere per h6, g per h6, c per d4 chiaramente per rivedere questa mostra vi consiglio di andare a vedere il video precedente dove ho spiegato bene diciamo ogni singola opzione, le idee eccetera, questo è un video di approfondimento per andare avanti su questa variante di putian primo alfiere d7, h3, torre g8 e la mossa a3 era quella che avevo visto nel video precedente come vi avevo accennato adesso dobbiamo andare avanti per vedere due altre opzioni del bianco cioè la mossa alfiere 2 e la mossa torre a2 per quanto riguarda alfiere 2, il gioco è molto semplice nel nero, il nero va avanti con torre g8 cercando di creare pressione su g2, pedone che deve essere difeso e per difenderlo diciamo che è il bianco ad opzioni, ora occo corto difendendo con il re, in questo caso il nero prosegue con torre g4 attaccando tre volte il pedone e si pone il problema di come difendere questo pedone in realtà non c'è un modo per difenderlo dunque non rimane altro al bianco che attaccare la torre con h3 il nero si mantiene sulla linea di un torre f4 mantenendo l'attacco e a questo punto al bianco non rimane altro che giocare g3 diciamo costringendo il nero al sacrificio di qualità con torre per f3 seguita da donna per d4 g3 è la mossa migliore però è interessante vedere cosa succede se il bianco gioca donna d2 che è un'altra opzione per 1000 ad attaccare la torre in f4 donna d2 apparentemente è buona in realtà non va bene perchè su donna d2 il nero gioca tranquillamente cavallo per d4 soltanto il fatto che se la donna cattura la torre il nero fa un doppio e vince praticamente la partita perchè sarà l'attacco della donna che è re dunque donna d2 è sbagliata perchè il nero può tranquillamente giocare cavallo per d4 dopo cavallo per d4 donna per d4 il nero sostanzialmente viene da un pedone senza altro rischio dunque non può giocare il bianco in questo modo lo deve fare dunque g3 e dopo g3 è importante per il nero sacrificare la qualità queste sono posizioni dove non dobbiamo avere paura di sacrificare la qualità perchè molto spesso in queste posizioni i pezzi leggeri giocano molto bene torre per f3 alfiere per f3 donna per d4 è sicuramente un'ottima opzione bianco deve prendere donna per cavallo per e il bianco qui deve togliere alfiere attaccato in realtà può anche difenderlo ho giocato anche una partita in cui il mio avversario ha giocato cavallo d2 però dopo cavallo d2 il nero comunque ottiene un'ottima posizione semplicemente con alfiere g7 il nero mira per attaccare il pedone e lanciano delle buone mosse per difendere il pedone 5 quindi il nero ottiene qui un'ottima posizione ottenendo il secondo pedone e avendo un'ottima attività dei pezzi altra opzione oltre a cavallo d2 potrebbe essere alfiere g2 che è sempre la mossa più scontata per avere anche la possibilità di fare f4 in caso di necessità di difendere in questo caso il nero ottiene un buon finale giocando a5 perchè adesso attacchiamo due volte il pedone b4 il pedone che deve essere diciamo difeso in qualche modo o eventualmente cambiato su a5 siccome non può essere difeso non ci sono pezzi che possono difendere b4 non rimane al bianco che cambiare in a5 dunque b per a5 e dopo torre per a5 il nero crea un attacco fortissimo sul pedone in a3 che non può essere diciamo difeso adeguatamente o meglio può essere difeso ma ciò vorrebbe dire avere i pezzi del bianco per se il bianco giocatore è d1 il nero va avanti tranquillmente con alfiere c5 e qualsiasi tentativo di difendere a3 non porta grandi risultati perchè il settore d3 il nero ottiene di difendere allora il nero avanza con tutti i pezzi alfiere b5 e piano piano il nero quando i suoi alfieri con il cavallo restringe sempre di più il gioco del bianco per questa ragione in questa posizione il bianco deve concedere il pedone deve giocare il cavallo d2 e dopo per esempio b5 il nero mira per la posizione alla fine a3 cade forzatamente il bianco è giocatore b1 nel tentativo di attaccare b5 il nero porta anche in line giocatore c2 torre a2 torre a3 e poi giocare a questo finale dove il nero ha si raccogliere in meno però ha due pedoni passati il punto gioco del nero è molto pericoloso e il nero può giocare sicuramente per vincere per ottenere vantaggio quindi questa è un'ottima posizione per il nero torniamo un attimo indietro come vi dicevo dunque l'alfiere deve andare via magari può andare su altre case magari può provare ad arrivare in h5 ma se alfiere h5 ugualmente a5 il nero ha sempre un buon attacco e poi quello che ho detto prima vale anche su questa posizione perfetto dunque abbiamo visto le idee principali di questa variante la variante alfiere in e2 dunque l'idea semplicemente torre g8 attaccando g2 che deve essere difeso dunque o a rocco o g3 un'altra opzione ma ugualmente anche se g3 ugualmente torre g4 sempre qualità di attaccare con d4 se il bianco gioca a3 in maniera analoga dalla posizione precedente a questo punto il nero può anche fondamentalmente dare subito torre su d4 soltanto il fatto che dopo cavallo per d4 e cavallo per d4 il bianco è ancora al centro dunque se giocasse adesso a rocco corto il nero otterrebbe un'ottima posizione molto semplicemente con cavallo per e2 donna per e2 e alfiere b5 quindi da riprende la qualità chiaramente con vantage di materiale il nero qui ha una posizione sostanzialmente di netto vantaggio e dunque il nero non ha alcun problema per questa ragione dopo cavallo per d4 il bianco ha serie di problemi non ha uno sviluppo facile e se provassi magari a giocare cavallo c3 nell'ottima di uno sviluppo il più rapido possibile il nero ancora una volta il nero qui gioca con e5 la mossa chiave in queste posizioni e dopo eventualmente il b5 il nero può tranquillamente giocare e ancora una volta o cavallo per e2 o anche a4 con l'idea che poi il pedone b5 rimane sotto attacco e mosso con torre b1 non possono essere giocate perchè il pedone a3 comunque sempre in presa è sempre attaccato e dunque se ancora una volta rocco corto il nero può giocare con molta tranquillità torre c8 attaccando c3 dunque attaccando indirettamente anche l'alfine a2 e se il cavallo prova cavallo per a4 dopo cavallo per e2 donna per e2 e donna in a5 il nero guadagna un prezzo di tempo attaccando cavallo e poi minacciando b5 e togliendo anche la possibilità di poter trattare su c3 perchè il nero controlla c3 con ben due pezzi dunque non ha alcun tipo di problema per questa ragione la posizione del nero diventa molto forte il bianco non ha mosse buone quindi nero è sicuramente in vantaggio per questa ragione entrambi i casi il nero ottiene una buona posizione e non ha questi problemi l'idea è sempre quella torre g8 con torre g4 con l'unica differenza è che se il bianco gioca g3 dopo h3 possiamo subito sacrificare soltanto che dovrebbe essere ancora al centro dunque il nero ha un dinamismo più forte se invece il bianco gioca rocco che è diciamo la mossa migliore in questi casi dopo torre g4 h3 non è così conveniente fare subito il sacrificio ma conviene forzare il bianco ad indebolismo ulteriormente con g3 e solo dopo g3 allora va bene sacrificare in f3 e poi prendere in questo caso di donna non di cavallo perché se prendiamo adesso di cavallo col fatto che il bianco è già roccato e che l'alfiere non può più subire diciamo questo tipo di tatticismo sulla diagonale allora il bianco qui si svilupperebbe ripetendo con cavallo c3 senza avere grossi problemi dunque su questa variante in cui il bianco rocca è fondamentale prendere i donna per cambiare anche le donne e dunque giocare un finale dove pur con qualità in meno ottenendo poi infine due pedoni di vantaggio possiamo giocare tranquillamente per vincere abbiamo sicuramente buone chance di poterci riuscire dunque abbiamo trattato la linea alfere 2 nel prossimo video tratteremo l'ultima opzione di questa variante diciamo torre a2 che come vi accendavo anche precedentemente ha l'idea di difendere d4 tramite la torre dunque per questo video è tutto vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo che se avete delle domande non esitate a scrivere sotto qui nei commenti sarò felice di rispondervi e aiutarvi diciamo in questo studio riguardante la francese e la variante avanzata la variante di spinta diciamo perfetto dunque grazie ancora della visione e vi do appuntamento per i prossimi video grazie grazie grazie